torniamo sul condone edilizio perché e per come si devono calcolare gli oneri concessori se ancora devi concludere tutto l'iter quale metodo bisogna applicare per calcolare quali tariffe lo scopri in questo video chiaramente prima di andare avanti devi assolutamente iscriverti al canale youtube devi cliccare la campanellina devi seguirmi anche dal canale telegram puoi seguirmi anche dal blog studio tecnico pagliai punto it io sono l'ingegner carlo pagliai e mi trovi anche sui vari riferimenti social che vedi qua allora di cosa parliamo oggi parliamo della delle modalità e bisogna che capire come quantificare il calcolo per pagare gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione eventualmente dovuti per le domande di condono di quali condoni stiamo parlando di quelle sono già stati presentati con la legge 47 85 con la legge 724 del 94 e infine il decreto legge 269 2003 quindi non ci sono a oggi a oggi aprile 2023 nuovi condoni edilizi stiamo parlando solo di quelle domande già presentate giacenti pendenti su cui ancora evidentemente non l'istruttoria non è andata avanti e devono appunto calcolare anche gli oneri concessori torino avanti queste due oneri da pagare quindi oneri urbanizzazione nonché i contributi costo costruzione li chiameremo oneri concessori ok intanto perché sono dovuti nel condono vediamo l'indice poi vediamo anche se e in quale modalità una regione può modificare i criteri di calcolo di questi oneri come la mettiamo anche per gli abusi edilizi oggetto di condono compiuti prima della legge bucalossi 77 e la legge ponte del 67 poi oneri il conteggio a che a cosa facciamo riferimento al rilascio della sanatoria qual è il qual è il riferimento giurisprudenziale faccio riferimento invece alla domanda di presentazione del condono o addirittura all'epoca dell'abuso o andiamo avanti allora intanto direi perché sono dovuti perché le dobbiamo pagare perché evidentemente sono stati fatti degli illeciti edilizi oggetto di domanda di condono o sanatoria straordinaria è la stessa cosa perché appunto questa possibilità è prevista dal comma 1 articolo 37 della legge 47 85 quella del primo condono che già subito introdusse l'obbligo diversamente o di del contributo bucalossi detto bucalossi ove previsto ove dovuto accetto se uno aveva fatto solo modifiche interne gli oneri d'urbanizzazione non doveva pagarli ragioniamo se doveva pagare il contributo dei costi costruzione e ristrutturazione poi lo so che esisteva l'articolo 48 che sanava le sole modifiche interne pure ma magari erano modifiche interne di un certo tipo anche con frazionamenti anche con opere strutturali insomma quello che poteva essere anche una ristrutturazione edilizia che noi oggi da contemporanei chiameremo conservativa ma è per fare un po il quadro allora nel momento in cui comunque c'era modifiche o opere oggetto di condono che comportavano aumenti di carico urbanistico o modifiche di carico urbanistico pensate agli ampliamenti pensate a anche a nuove costruzioni sopraelevazioni ristrutturazioni di un certo tipo ok quindi anche con frazionamenti aumento d'unità immobiliare cambi d'uso ne vogliamo parlare ecco che con quel quadro normativo era dovuto ed è ancora dovuto non è che c'è una prescrizione in questo senso era necessario è necessario pagare gli oneri concessori ora le regioni hanno qualche margine di manovra vediamo perché perché questa previsione di rimessa facoltativa alle regioni aveva lo scopo di far partecipare gli interessati all'eventuale fase di riqualificazione o adeguamento degli standard urbanistici del territorio comunale soprattutto delle parti territorio pesantemente colpite da fenomeni di abusivismo come lottizzazione abusiva ecco per anche perché si pagano gli oneri soprattutto per abusi fatti in un'epoca in cui non c'era obbligo di pagare gli oneri e di cosa stiamo parlando del periodo che va dalla legge ponte 67 ora lo vediamo alla legge bucalossi 77 cioè le regioni hanno appunto la possibilità di imporre gli abusi ante 77 e i posteriori al 67 la possibilità di obbligare o meno il pagamento eccolo qua consente alle regioni di provvedere il pagamento qual è la norma ce lo dice il comma 3 articolo 37 sulla legge sul condono quindi chiaramente mi da anche dei paletti misura non superiore comunque a quello previsto per gli oneri d'urbanizzazione quindi andando a escludere la parte sul costo ricostruzione è questo il concetto ma 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 ci sono anche alcune possibilità per non pagare gli oneri comunque quando erano e sono dovuti cioè per opere per urbanizzazione che sono già state effettuate a cura spese degli interessati oppure se non ancora eseguite scomputo totale o parziale della quota dovuta dal concessionario quindi colui che riceverà il condono o unite anche in gruppo in consorzio possono obbligarsi loro a realizzare direttamente l'urbanizzazione ovviamente bisognerà fare un accordo una convenzione e le relative garanzie quindi il concetto è che per in base all'epoca dell'abuso c'è questa tabella riassuntiva anteriore alla legge ponte quindi abusi oggetto di domanda di condono effettuati in epoca remota praticamente ante 67 non è mai dovuto periodo intermedio tra la legge ponte 1967 primo settembre e fino a gennaio 1977 giorno non me lo ricordo legge 10 77 dovuto solo se previsto dalle leggi regionali ok e dopo con la legge 10 77 comunque nelle domande di condono è obbligatorio a prescindere e chiaramente ove dovuto è chiaro se c'è aumento di carico urbanistico aumento di superficie o interventi comportanti incidenti sui carichi urbanistici come anche cambi d'uso probabilmente ci sarà da pagare ok in toscana per esempio sono espressamente dovuti per il periodo intermedio che abbiamo detto ok in questo decennio ora c'è da farsi una bella domandina c'è da farsi una bella domandina che è la seguente ora prima di andare avanti direi che è il caso di fare una premessa cioè il conteggio a cosa a cosa faccio riferimento ora al netto di quanto disciplinato diversamente ed eventualmente dalle norme regionali come sempre il criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione e contributi costi costruzione va riferito alle tariffe vigenti al momento del rilascio di condono ora toscana abbiamo la nostra norma in toscana ma non è credo non sia l'unica ora voi direte perché perché io ho la legge 47 85 in base all'articolo 37 ultimo comma sempre della medesima legge mi dice che il calcolo ora la vado a prendere se la trovo no non c'è eccola no va bene comunque c'è riferimenti giurisprudenziali in sostanza la regola generale rinvia il conteggio degli oneri concessori alle norme vigenti al momento dell'istruttoria e del relativo rilascio lo dice appunto l'ultima frase articolo 37 legge 47 85 ora si sono formati però due orientamenti giurisprudenziali a cosa faccio riferimento faccio riferimento alla normativa vigente all'entrata in vigore della legge sul condono quindi per i tre condoni i vari momenti no 85 poi lasciamo perdere le proroghe lo so che ci sono anche delle limitate proroghe per ciascuno dei tre condoni ma primo condono 85 secondo condono 94 terzo condono 2003 bene faccio riferimento a ciascuno di essi ai vari momenti dell'epoca punto di domanda e quindi c'è la giurisprudenza che dice il calcolo te lo devi riferire al momento di rilascio e alla conclusione condono e quindi pagare molto cioè pagare probabilmente con una tariffa di oneri concessori più alta sicuramente probabilmente più alta oppure c'è anche la giurisprudenza che invece è a favore del calcolo da farsi con le tariffe degli oneri concessori all'epoca di presentazione dell'istanza ovviamente non può essere all'epoca del compimento dell'abuso si andrebbe troppo indietro nel tempo e magari appunto l'abbiamo detto prima non c'era neanche l'obbligo di pagare gli oneri ma le regioni lo potrebbero aver fatto rientrare dalla finestra per quel decennio che abbiamo detto prima che va dal 67 al 77 bene allora giurisprudenza a favore del calcolo riferito al momento del rilascio e conclusione condono quindi arriviamo alla situazione neanche tanto remota ampliamente abusivo del 1968 domanda di condono dell'85 per qualche motivo è rimasta dormiente lì pendente nessuno ci ha fatto nulla sono state fatte delle compravendite successioni insomma mille mila problemi che possono capitare nel nostro mondo e si va a chiudere oggi la domanda condono io gli oneri li pago a oggi ok perché l'istruttoria si va a concludere ai giorni nostri e quindi devo fare riferimento a alle tariffe vigenti oggi oggi intendo 2023 ora per esempio c'è una sentenza consiglio di stato la d'ugenza 79 2023 che ha confermato che pure gli abusi oggetto del secondo condono quindi non solo per il primo ma vale il criterio si estende anche a quelli successivi va calcolato alle tariffe vigente al momento del rilascio del titolo in sanatoria e quindi ripeto il criterio da applicare a tutte e tre provvedimenti di condono ora rapidamente vi leggo la massima la conclusione il principio di questa sentenza in questo senso è infatti orientamento consolidato quello secondo cui in materia di pagamento degli oneri concessori relativi al titolo sanatoria trovi applicazione il canone tempus regic tactum cioè la norma vigente al momento in cui si agisce perché è soltanto con l'adozione provvedimenti sanatoria che il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo di conseguenza l'importo degli oneri concessori va determinato secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo sanatoria del condono e non in relazione a quello alla presentazione della domanda cioè a decenni indietro ok ritrovate altri riferimenti non è una sentenza isolata è un orientamento è quindi vuol dire che ci sono tante sentenze che vanno in questa direzione ora c'è anche la giurisprudenza contraria ok cioè quella che ritiene che il calcolo debba essere fatto all'epoca riferito all'epoca di presentazione le istanze condono quindi bisogna prendere le tariffe del condono vigenti che ne so nell 85 nel 94 e attualizzarle però ok questo sì cioè gli interessi su quelle tariffe vigenti all'epoca ci vanno ci va calcolato per lo meno per quell'esperienza che ho avuto in quei comuni che applicano questo criterio comunque loro mi prendano gli oneri che all'epoca erano bassini ok comparati a oggi loro comunque fanno un adeguamento con parametri di aggiornamento ok che comunque sono sempre più convenienti rispetto e calcolare e usare gli oneri stabiliti oggi bene ecco l'orientamento contrario e ammettere procedimenti di calcolo degli oneri concessori quelli al momento di ultimazione dell'opera e della presentazione della domanda e non al momento del rilascio del titolo concessorio ora questa prassi l'ho vista applicare però riferita al momento dell'istanza e mai all'epoca dell'abuso ora anche vero che se vedete queste sentenze di consiglio di stato vedrete che fanno riferimento agli oneri vigenti al momento della domanda non dell'epoca dell'abuso perché sennò si va troppo indietro e comunque sarebbe anche ancora più difficoltoso e anche io ritengo che secondo me se si dovesse applicare questo orientamento questo orientamento debba fare riferimento al momento dell'istanza non al momento di realizzazione dell'abuso ok allora questo perché non è raro imbattersi in domande di condono dove all'interno se vince l'opera è stata compiuta in più fasi nel tempo rendendo ancora più difficile eventuali conteggi secondo quel criterio o è qui veramente bisogna stare attentini cioè molto spesso nelle domande di condono relative anche a un edificio o anche un appartamento in verità non è una domanda di condono è una domanda che contiene più oggetti più abusi separati e compiuti volendo anche in epoche diverse cioè un ampliamento fatto nel 71 poi c'è stata la ristrutturazione abusiva quindi l'abuso nell'abuso nell'84 poi magari a una domanda di secondo condono edilizio e allora ci infilia anche di nuovo una sopraelevazione del 91 ecco mi sono capitate situazioni capitano anche a voi e non è che siano merce rara casi di vestosimi di questo tipo ecco perché allora si va a fare riferimento al calcolo degli oneri al momento in cui si fa la presentazione della domanda se si vuole aderire a questo orientamento giurisprudenziale ok poi tra le motivazioni di questo orientamento vi sono ragioni di fatto cioè l'immobile da sanare per definizione già esistente sia di diritto ma sia anche in relazione ai principi di uguaglianza nella nella soggezione alle prestazioni patrimoniali imposte di buon andamento della pubblica amministrazione quindi avete capito il motivo per cui c'è anche in parallelo una un orientamento che va come dire in direzione apposta invece a quello che vuole fare riferimento al calcolo degli oneri concessori al momento della chiusura della pratica della dell'istruttoria qui stiamo parlando ripeto per le domande di condono non ancora definite non ancora concluse e per assurdo manca proprio il conteggio o il pagamento degli oneri questo ripeto un po capitare non dovrebbe ma non è proprio raro trovare domande di condono in cui effettivamente ci siano gli ultimi dettagli allora consigli e conclusioni per questo tipo di situazione intanto vi raccomando confrontatevi con gli uffici tecnici comunali per individuare la disciplina di merito soprattutto se la normativa regionale abbia introdotto a suo tempo una diversa previsione o se la prevede ancora oggi perché chissà magari negli anni andati la regione aveva preso un'impostazione aveva dato un'indicazione mettete ad esempio una circolare no può capitare pure questa poi è cambiato indirizzo noi tecnici ingegneri architetti geometri andiamo ora a prendere in mano delle pratiche ammezzate o pendenti aperte decenni fa sono partite in un modo erano stati presi degli accordi con un istruttore comunale di un certo tipo e ora l'istruttore comunale non c'è più è cambiata la prassa è cambiato dirigente è cambiato regolamento si cambia anche questo è ammissibile può capitare quindi non vi dovete meravigliare poi appunto è probabile che per tali norme regionali si debba consultare i rispettivi repertori e raccolte normative quindi in caso contrario ci si dovrà aspettare un conteggio riferito agli oneri d'urbanizzazione tariffate al momento di conclusione dell'istruttoria ed è un passaggio obbligato per il relativo rilascio sanatoria quindi di nuovo anche qui vi dovrete confrontare e dialogare con la pubblica amministrazione capire qual è quale orientamento viene scelto e applicato dal comune cioè quello favorevole al pagamento al momento di chiusura dell'istruttoria o se all'epoca e a quello se qualcuno non è d'accordo lo sapete no cosa succede c'è la possibilità di fare ricorso al tar però di nuovo uno deve valutare costi benefici tempistiche deve valutare anche se quale orientamento giurisprudenza si applicherà su quel caso specifico e allora di nuovo io consiglio e posso dare valutare sempre caso per caso insieme ai propri clienti e anche con la pubblica amministrazione qual è la situazione più corretta non riesco neanche a sbilanciarmi a dire qual è l'orientamento migliore tra le due situazioni è chiaro che quello che piace di più è l'altro è quello che fa pagare meno quello che si riferisce al momento dell'istanza e lo so però qui poi lo vedete come appunto la situazione lo decide poi il giudice caso per caso giurisprudenza per giurisprudenza bene direi che ci possiamo dare un saluto vi posso invitare vi aspetto al mio prossimo video dove farò anche live premiere o altri contenuti che trovate pubblicati sul mio blog studiotecnico pagliai punto it un saluto e alla prossima